C'è tempo fino al 30 giugno per partecipare. Il premio internazionale Claudio Scimone rende omaggio a un uomo che oltre a essere un artista e musicista ha portato il nome dell'Italia nel mondo. E così chi suona con passione, violino, viola, violoncello, contrabbasso, purché nato dopo il 31 dicembre 1996, può concorrere all'assegnazione di una borsa di studio da 5.000 euro. È una borsa annuale che la prima edizione prevede un premio di 5.000 euro unico e sarà ripetuta negli anni a venire. Si affiancherà ad altre borse di studio che già vengono erogate ai giovani talenti della Masterclass dei Solisti Veneti. Per lui la formazione, l'educazione dei giovani costituivano un po' un prerequisito del suo più complesso progetto culturale, decisamente un grande innovatore. La domanda può contenere anche video di performance musicali e dopo una prima valutazione ci sarà la convocazione al Pollini dove i candidati suoneranno due brani, esibizione rigorosamente aperta al pubblico. Della giuria fanno parte Clementine, la moglie del maestro Scimone, il primo violino dei Solisti Veneti e quello dell'Orchestra La Fenice. Il presidente è Nicola Guerini, dalla moglie di Scimone un appello a far conoscere di più la musica classica. Due mandolini e archi con la leguna. E' arrivato al primissimo posto mondiale. Vorrei dire alla televisione di smettere di fare solo musica leggera perché le cose belle ti dà un regalo per la vita e noi vorremmo dare ai ragazzi il regalo della vita, della musica. Il premio verrà consegnato il 6 settembre durante l'intervallo del concerto dei Solisti Veneti organizzato a un anno esatto dalla morte del maestro Scimone.